Dio creò tutti gli animali, ma prima che venissero spediti sulla terra, tre specie tra di loro ebbero qualcosa a che ridire con il Padre Eterno, ed erano l'elefante, la giraffa e la gallina. Quindi entrò prima l'elefante dal Padre Eterno e gli disse a Padre Te, a me mica mi piace come mi hai fatto, guarda che vecchie grosse, guarda che sta proboscite strana, sto corpo così possente. E il Padre Eterno certo le fa che sei proprio un ingrato, ti ho fatto quelle belle orecchie con cui ti puoi sventolare, quel corpo possente con cui ti puoi difendere dai predatori, quella bella proboscite con cui puoi bere anche stando in piedi, puoi raccogliere il cibo da dove vuoi, sei proprio un ingrato. Beh, in effetti sì Padre Eterno, c'hai ragione, ma contento di come sono, insomma l'elefante torna dalle altre due specie e la gallina gli fa, scommetto che t'hai ambastita? No, no, vabbè, c'ha ragione il Padre Eterno, vado bene così, ma contento. Dopodiché entra la giraffa che dice al Padre Eterno, a Padre Te, a me mica mi piace come mi hai fatto, non so per niente contenta, sto collo lungo, sto corpo strano. E il Padre Eterno, certo giraffa che pure te sei una grande ingrata, ti ho fatto quel bel corpo longilineo con cui puoi correre velocemente, quel bel collo lungo con cui puoi raccogliere i frutti più freschi in cima all'albero, sei proprio un ingrata. Beh, in effetti c'hai ragione Padre Te, ma contento, e se ne va pure la giraffa, dopodiché entra la gallina che dice al Padre Eterno, a Padre Te, te inventa un cazzo, mi allarghi il culo o mi rimpicciolisci l'ova?